Siamo di fronte a un Salvini neopacifista, oggi Draghi lo ha ricevuto per un'ora e Salvini ha appunto elogiato la nuova linea del governo più, chiamiamola più pacifista dopo il viaggio a Washington e quindi oggi sembra essere conto il vero problema della maggioranza di Draghi. Una battuta sulle condizioni di salute di Putin, bene sempre non confondere le diagnosi con gli auspici, è chiaro che si è auspicato un colpo di Stato, sono tutte cose che come si diceva giustamente lasciano il tempo che trovano, bisogna ragionare sulla realtà, la realtà per quanto riguarda l'Italia è centrata sul colloquio che Mario Draghi ha avuto nella sala ovale a Washington dove ha detto due cose fondamentali, la prima a proposito di Stoltenberg che continua a fare previsioni un pochino azzardate, l'Ucraina vincerà la guerra, che sarà l'Ucraina a decidere del proprio destino, che sembra una banalità ma in realtà è un modo per sganciarsi all'Italia e forse anche la Francia e forse anche la Germania da decisioni avventate, da blocchi per costringere per esempio la Nato a muoversi, attenzione, siamo su piani completamente diversi. Il secondo elemento è quando Draghi riportando un sentimento che era stato anche anticipato da Papa Francesco, attenzione, ha detto che la gente in Europa non ne può più. Papa Francesco l'ha detto in termini forse più duri, quando per esempio accennava al 2% del PIL in armamenti, ha detto questi sono pazzi o quando ha definito le manovre della Nato prima dell'aggressione della Russia, sia un abbaiare della Nato a cui ovviamente Putin ha risposto non solo con i latrati ma anche con quello che sappiamo. Quindi io penso che Draghi in questo momento al di là di Salvini che oggi dice questa cosa, domani chissà, ma insomma non possiamo stare appresso a Salvini ormai da anni. Draghi stia cercando una linea di compromesso tra quello che è la strategia come dire filoatlantica, filoanate, quelli che sono gli interessi dell'Italia, del Paese, dei cittadini italiani, i quali non vengono mai presi in considerazione a proposito dell'energia di cui parlava Stefano, cioè del non accordo, sull'embargo totale delle fonti energetiche rosse. Questo è il segno che i governi, Roma, Parigi, probabilmente Berlino, si stanno preoccupando dei paesi che stanno governando e non tanto dei sogni di Stoltenberg. E certo, e questo è tanto vero.